Per chi non mi conoscesse mi presento, sono Donato Grilletti, macchinista delle ferrovie sud-est. Ho voluto iniziare questo video facendovi vedere come noi macchinisti e capi treno salutiamo Don Tonino quando con il nostro treno passiamo a non più di 50 metri dal cimitero dove lui è sepolto. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla giornata dell'8 dicembre, giorno in cui si commemorava il 59esimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Tonino avvenuta l'8 dicembre del 1957. Un grazie al presidente della fondazione dottor Giancarlo Piccini che ci ha illuminati con dei flash su alcuni aspetti della vita di Don Tonino. Un grazie al fratello di Don Tonino Trifone che ci ha da subito incoraggiati nell'intraprendere questa iniziativa. Grazie a Don Dario Donateo, figlio del nostro amico capotreno Luigi Donateo che ha ufficiato nel cimitero per la benedizione della targa. Un grazie è rivolto anche a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte come il maestro Giovanni Bonalana che per la messa in opera della targa non ha voluto neppure un centesimo. Grazie anche all'amico macchinista Maurizio Lazzari che ha collaborato per la realizzazione del DVD su Don Tonino dal titolo Servi inutili a tempo pieno. Ma un grazie particolare è rivolto al Signore e a Don Tonino che mediante alcune persone ci hanno permesso di realizzare e vivere questa bella giornata. Grazie a tutti e buona visione. Siamo appena partiti dalla stazione di Alessandro e stiamo per passare nei pressi del cimitero dove è seponto il nostro amatissimo Don Tonino Bello e per noi macchinisti e capotreni questo è il nostro modo di salutarlo. Don Tonino Bello era innamorato della gente semplice e soprattutto dei posti nostri. Guardate un giorno io non mi nascondo che l'ho accompagnato da Santa Maria di Vievoca a Subversano perché doveva c'era un cinquantesimo di sacerdosia e passando c'era un boschetto dopo l'ospedale di italiano. Era il mese di luglio e le cicale che cantavano proprio e mi fa senti Trifone quando mi registri queste cicali e io dico ma non ce ne stanno cicali? Sì ma non cantano come le nostre. Guarda è una cosa è una cosa proprio veramente veramente che mi è rimasta nel cuore. Io davvero davvero guarda è una cosa bellissima quella che avete fatto oggi. Certamente sarebbe stato ancora più bello poterlo fare al cimitero. Comunque pazienza bisogna accettare tutto. Ho detto quello che ci viene dal Signore bisogna accettarlo tutto. Così ha voluto e così faremo Gabriele. Sono sicuro. Certo una cosa mi dispiace che avete impegnato proprio la giornata di oggi per fare questa celebrazione che io ho accettato molto molto volentieri. Sono sicuro che il Signore vi benedirà tutti per questa cosa bella. E sono convinto di una cosa soprattutto che Tonino Tonino è contento di quello che voi avete voluto fare oggi. Sono sicuro di questo. Non lo voglio impegnare perché scendono delle grazie su cui voi. Ma sono sicuro che lo fa fatti per tutto il mondo. E sono convinto soprattutto di una cosa che vuole bene a tutti. Soprattutto ai parenti vostri, ai vostri amici, ai vostri figli. Vi benedirà perché io sono certo di una cosa che Tonino è consapevole certamente di questo che la gente e la gente non si dimentica mai di lui. Adesso vi ringrazio. di questo. Il nostro presidente della fondazione è qui. La fondazione si interessa un pochettino di tutto e noi abbiamo voluto fare questa cosa. a proposito dell'amore di Tonino per il saletto. Ho seguito la novena dell'Immacorata a casa Rana. Il sacerdote, parlando proprio della figura di Maria come gemma, una gemma insomma, che mi ha raccontato un episodio che quando è andato a trovare Tonino sul letto di morte, si è trasfigurato, bianco dimagrito, ha sentito l'accento salentino, ha sentito l'accento che gli ha detto. Senti, dimmi una cosa, ma come si chiama? La cosa da gemma, come si chiama? ha detto, scattone, ha detto lui, no? Bravo, scattone, ha detto, beh, lo sai, io tra qualche giorno divento scattone. E poi dice, dopo qualche giorno è morto. Sì, 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 è rimasto proprio questa cosa. Io, perché veniva tanta gente in quei giorni, principalmente anche lui, che è stato sentendo una cosa, una cosa veramente, ha accettato tutto. Una cosa mi disse, mi raccomando, quando viene della gente fai passare tutti, siccome lì, cominciando, non voglio dire male per carità dei sacerdote, i primi erano loro che dicevano, facevano da filtro, no? Mi raccomando, non fate passare tutti, perché fai passare tutti, soprattutto la gente che va vestita, non va vestita come si deve. Tutti debbano passare, tutti mi vogliono visitare e tutti debbano venire a vedermi. Sì, è stata una cosa bellissima, è stata una cosa bellissima che ci è capitata. Io, guardate, io sono certo di una cosa che ho ricevuto anche io delle grazie, soltanto che non ho saputo cogliere, cogliere al momento giusto quello che stava succedendo. È una cosa bellissima, quella che ci sta capitando e quella che ci è capitata. Noi abbiamo avuto la fortuna, insieme a lui, di andare a Santa Marta ad assistere alla messa del Papa, no? E quindi è stata una cosa molto bella. Forse è una cosa, sono certo, che non siamo degni di poter ricevere tante cose belle da Gesù Cristo. Io la sera, quando mi corico, non vi nascondo, che mi viene da pensare. Però non faccio nulla. So che voi siete più buoni e dico chissà quanta gente dorme sotto, in mezzo alla strada, sotto i cartoni. Io mi bagunco bene bene, sono con i termosifoni e sto al caldo. È bellissimo. È bellissimo. E quindi grazie veramente di tutto. Non vi dimenticate mai della gente povera. Soprattutto a qualche uno che timbra i biglietti. qualche volta seguirebbe. Ma passarà. Sappiate, sappiate. Non siate inflessivi. Cercate a essere buoni e bravi, come lo siete. Come lo siete. Sono convinto che vi ricorderete di questo. Sarà una cosa molto bella. Adesso, se vi è concesso, così è bene che chiuderei sulla figlia di montagna. Concordo intanto, io sono un macchinista ormai in canzone da diverso tempo, e concordo su quello che ha detto Trifone. Noi ci siamo conosciuti una ventina d'anni fa. Noi venivamo in bicicletta già prima che cominciassero. La figura di Don Tonino l'ho conosciuta nel momento in cui a lui non era concesso di andare molto in televisione. solo dai due lui riusciva a trasmettere i suoi pensieri. Ad altre, in arce televisioni, a lui non era concesso, perché a un profeta purtroppo deve lavorare molto. Ma su questo sicuramente il Presidente ci dirà qualcosa. Concordo, dicevo che questa è una cosa fatta bene. Io non sono stato dolce con Donato Grilletti. Abbiamo sempre, diciamo, ci siamo confrontati sempre a muso duro. Confrontati o scontati? Confrontati. Lo scontro non appartiene alla mia senziana. Lo scontro non appartiene. E il confronto si è errato. Gli ho sempre detto che lui poteva fare, ancora non ha fatto. Però un piccolo pezzo lo ha fatto oggi, del suo lavoro. Un piccolo pezzo, molto poco. Per il suo sapere e per la sua conoscenza. E per la sua forza. C'è stato qualcosa, come diceva Trifone, che ha permesso ancora a questa pedagogia di esistere. perché ci sono stati tre periodi. Anni 80, il Ministro Formica, sono qui gli atti ufficiali di questo governo, voleva chiudere i ravvisi di Casarano Gallipoli e Magliottanto. Un manipolo di macchinisti si è saputo difendere questa cosa. Fummo ospitati dal sindaco di Taviano e lì non permettevano di chiudere i ravvisi secchi. Anni 90, anche qui atti ufficiali della Regione Puglia e della provincia di Lecce, ripeto Regione Puglia, avevano come terminale di scambio Maglia. E lì fermare il treno e trasbordare il suo auto e quindi chiudere la Casarano Gallipoli. Oggi finalmente, io naturalmente manca Guido Ferrari che è il testimone, ma verrà poi ad assistere la messa. Con lui siamo venuti più volte, quando ho voluto chiudere Galliano, a un parlamentare del capo, naturalmente non farò mai nome io, e abbiamo detto che Galliano è un punto d'arrivo importante per questa veroria, per il tracciato, per la bellezza del tracciato. Penso a questa, quando si sale da Cricasse su, no? Verso Alessandro. Penso a Maldurand, dove a ridosso il cimitero, no? Ci sono tutte cose che tu con la macchina non puoi scoprire, non puoi vedere. E quindi il miracolo è, questo lo dico perché anche questo è un altro ufficiale, che questo ministro, questo ministro affidato a un'azienda importante professionalmente, alle ferrovie dello Stato, come giusto che siano, perché le ferrovie dello Stato sanno fare trasporto e che le ferrovie sud oeste siano andate alle ferrovie dello Stato, malgrado il silenzio di molti amici, macchinisti, capotreni, capostazioni, il personale dell'esercizio deve saper dire, deve essere forte su queste scelte. Non bisogna avere paura. Il Salento o ce lo difendiamo noi o non ce lo difende nessuno. Io sono stato tra quelli che ho avuto il piacere e l'onore di ospitare in gabbina di guida il professor Donato Varmi, anche lui figlio di un macchinista. Lui, quando finiva l'università il venerdì sera, prendeva il freno per andare a Tricase dove c'erano i famigliari e lui veniva avanti e si facevano lecce, Tricase in gabbina di guida. Grazie per quello che avete fatto e grazie per quello che faremo oggi. Grazie. 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 Grazie a tutti voi per l'iniziativa, grazie a tutti voi per l'attenzione, a Don Tonino, alla Fondazione Don Tonino. Grazie a tutti voi per l'attenzione, a Don Tonino, alla Fondazione Don Tonino. Grazie a tutti voi per l'attenzione di questo lembo in terra, che dalla pesiferia ci consente un osservatore particolare. Da questo concetto vorrei partire, il concetto della periferia, che oggi viene sottolineato, evidenziato moltissimo dal nostro Paolo Francesco, ma che già con Don Tonino aveva ricevuto delle attenzioni anche letterarie di tipo molto particolare. Voi sapete che gli scritti di Don Tonino rappresentano per noi una vera e propria perla, e se qua dentro ci stanno tantissime opere belle anche di artisti di un certo rilievo, faccio riferimento soltanto a Salvatore Fiume, poi a Pia Rega, nel qualsiasi stanno anche questi quadri. A mio avviso le cose più belle stanno in questa teca di Metro, che di Fone e Marcello hanno voluto consegnare l'attenzione di tutti i pellegrini che arrivano all'Aressano, dove sono contenuti i maloscritti di Don Tonino originali su Maria Donna di Nostrigio. Sapete, Maria Donna di Nostrigio, a proposito di Salento, è un testo scritto su Maria, ma che parte dal Salento, e che riprende le cose più belle delle nostre donne, e quindi della nostra tradizione, della nostra storia. E voi che avete fatto un lavoro particolare ci portate il valore della tradizione, perché, vedete, noi oggi scegliamo molte volte di viaggiare in aereo, scegliamo di strumenti, scegliamo di sistemi prosiglietti veloci, a parte che gli serve anche voi oggi aggiornati in questo senso. Andare da Roma a Milano, ovviamente, è molto più bello andare da Roma a Milano, perché arriva, paradossalmente, arriva. Si sta a contatto con il centro, al centro di Milano, ma siamo iniziali prima, in una parte che è stato molto attivato. Però, volevo dirvi, Dottorino, intanto ci lascio un concetto fondamentale, che gli hanno hanno le misericordia, e se siamo distratti ce lo mettiamo nel cassetto e nella nostra storia, nella nostra storia personale, familiare, in città, non cambia nulla. Dottorino era una persona che ha cambiato il corso della storia, non solo delle persone che ha incontrato. Quindi ha cambiato il corso della storia di Tricone, ha cambiato il corso della vita delle persone che ha incontrato. la mia vita sarebbe stata completamente differente se non avessi incontrato. Ma la mia vita di tutti noi ha cambiato il corso della storia di Tricone, il corso della storia di Tricone, di Tricone, del nostro Salerno. E cambiamo. E questa è la misericordia. Che cosa è la misericordia? Cioè, se ci mettiamo dentro il cassetto, un valore così importante attraverso cui ruota tutta l'esperienza, tutto il messaggio del Vangelo, non capiamo niente. E probabilmente stiamo tentando di fare questa operazione. Invece, attraverso i profeti, attraverso il corso di Tricone, noi sappiamo che questo è un corso attraverso cui noi possiamo cambiare, non soltanto la nostra vita, ma anche la vita della nostra città, anche la vita del nostro Salerno. Vedete, noi attraverso il vostro amore, in qualche modo, ci riportate il valore della tradizione, il valore del passato. In fondo la tradizione che cos'è? Se non un Sant'Agostino, scusate, una tradizione che ci dice che la tradizione è il presente del passato, non è una cosa difficile. Sì, prendiamoci un attimo. E portare quello che è stato nel giorno oggi, quindi è il presente, noi portiamo quello che abbiamo vissuto negli anni, lo portiamo nella nostra vita. e quindi facciamo sì che la storia diventi per noi quotidianità. E poi attraverso il vostro lavoro, oltre a fare questo, che cosa ci idea anche tutti i giorni? Ci raccontate la bellezza del samento, l'avete letto in qualche modo. E ci portate un altro valore, che attraverso anche la nostra esperienza con voi, nei nostri incontri sui tre, che è la definizione poi più bella della misericordia, io in quest'anno, ad esempio. E cioè, sul treno noi viviamo, e c'era chi mi ha preceduto, diceva una cosa di Don Tonino, che è la cosa sostanziale anche della sua esperienza. Nel treno noi viviamo, facciamo l'esperienza dell'incontro. Quello che non facciamo su altri mezzi, noi lo viviamo sul treno. E la misericordia è parte dell'incontro. Non c'era più forte la sua cosa. Don Tonino diceva che incontrava tutti. incontrava tutte le persone. Ecco perché cambia il corso della storia misericordia. Perché incontrare tutti, significa schierarsi a favore di uno, dello stile inclusivo. Cioè, noi abbiamo uno stile esclusivo. Questo no, questo no, questo no. E che ne facciamo fuori? Di troppo alto, di doltre l'intensore. Quelli che non ci piacciono, quelli che non pensano come noi, quelli che coraggiano come noi, quelli che avevano la nostra stessa religione, quelli che non avevano i soldi, quelli che purtroppo non servono da niente. Tutte queste persone, venivano fatte fuori dalle città in offerta. Don Tonino le prende e le porta in casa. e vive, e dà anche alla carità, una dimensione, che assoggia la carità, una dimensione prettamente naturale, che è la fantasia. Quella che va al canno di oggi. quando Don Tonino ospitava a casa sua, le razioni che stavano sotto i detti, che non stavano sotto i detti in una casa, ma che stavano in un'istazione, che stavano in fondo, che cosa realizzò? Realizzò un atto di carità attraverso il paolo della fantasia. C'erano queste persone, che non sapevano come sistemarle. Lui mi appese e le portò nel palazzo alle scuole. Una sfida. Una sfida a tutta la città. E indicò a tutti la strada, dicendo sostanzialmente una cosa, che non c'è la crisi di allontici. Non so se tu mi ricorda, ma non c'è la crisi di allontici. Disse che non c'è la crisi di allontici, ma c'è la crisi di amore. Cioè, ma noi oggi, attraverso l'esclusione, che viviamo con l'indulana di molte persone che non hanno un tetto, con tutti. Sapete? Un anno fa, uno intervistava un cardinale, che vive nelle nuove a terra, e gli dissero al cardinale, come va qua sotto? C'è un povero, che non ha un tetto, che non va bene, e gli disse, ma che non si fa? Cioè, ma lui dice, non si segue. Cioè, quando non riusciva a intravedere, che occuparsi di quella persona, significava vivere la morte. Ora stiamo vivendo la morte, cioè stiamo vivendo l'attesa. L'attesa di cosa? L'attesa della nascita di che cosa? Di una speranza. E qual è la speranza? Una speranza di pace. Dottorino ha vissuto una vita, per dire a tutti noi, che il Natale è questo, è speranza di pace. Speranza di pace. No, noi tutti abbiamo bisogno di pace. Abbiamo bisogno di pace nelle nostre famiglie, perché mi incontro anche con le persone più care, necessita di pace quotidiana, nella costruzione quotidiana, perché se no le famiglie si spavano, perché abbiamo bisogno di pace nelle città, abbiamo bisogno di pace negli stati. Abbiamo bisogno, però, che la pace non sia appunto del silenzio, ma dell'incontro. E l'incontro, come diceva lei, a volte è la scelta più semplice con una persona, è non parlare, è chiudere. Lì è l'inizio della fine, cioè l'inizio della guerra. Il silenzio è la scelta più semplice e il diavolo che è la scelta più difficile. E poi abbiamo bisogno che queste scelte abbiano una dimensione politica, tra virgolette. Cioè Dottorino ci diceva che noi dobbiamo uscire fuori dall'etica del doppio binario. Quella che abbiamo costruito dei bianchi. La dedica del doppio binario è quella secondo cui anche nella nostra mente l'ottica dell'occhio per occhio va benissimo per gli stati. Per cui uno stato è canaglia dobbiamo portare la guerra. Non dobbiamo portare la pace, costruire la pace attraverso i bianchi. Abbiamo creato la terza guerra. quella fatta a pezzi, dice Paolo Francesco. Ma Dottorino ci aveva detto vedete che andiamo incontro ad un terzo millennio in cui noi vivremo alcune sfide. E quali sono queste sfide? E noi distratti, i fili anni 80, distratti da quella parvenza di un benessere economico, dicevamo che quest'uomo cominciava a dire cose che non erano belle. No? Con cui stavano andando e ci dicevamo che le sfide con le quali avremmo fatto i conti sarebbero state, primo, la guerra mondiale. Ma qua però è caduto il muro. Quale guerra? Stiamo costruendo l'Europa. Secondo, la fame del mondo. No, ormai il benessere, tanto che non è possibile che ci possano essere queste cose. Terzo, la sfida ecologica. Ma noi queste cose non le sentivamo rotte. La sfida è un messo come ci parlava, la sfida ecologica. Appunto Dario diceva che la pace del mondo passa attraverso la giustizia e la salvaguardia del creato. La vicina di Dottonimo e nel suo messaggio fondamentale era questo, pace e giustizia e salvaguardia del creato. Concetti per poi allora assunti. e però lui andare in giro del mondo a dire queste cose. Quarto, la sfida delle migrazioni. Ci avverranno tempi in cui nelle veriferie del mondo arriveranno tante persone dal terzo e dal quarto mondo e noi se non li sappiamo accogliere giremo il rischio del conflitto mondiale. Se ne è andato dicendo queste cose a tutti e lasciando nel cuore del mio di noi una speranza che il mondo cambierà se i poveri lo vorranno. E poi l'ultima cosa da Stato Inghievo al tuo notario che ci disse è che il messaggio di pace passa attraverso la non-violenza. non mi sto dicendo queste cose così. Mi sto dicendo queste cose pensando che il Papa Francesco tra pochi giorni in forza domani ci darà il messaggio della pace del cinquantesimo anno della giornata mondiale della pace e ci dice che la pace si costruisce attraverso la non-violenza. Don Tonino tornando da Stato Inghievo ci dice esattamente questo attecchirà mai la semente della non-violenza? Questa è la domanda che si fa. Il viaggio a Stato Inghievo ha come domanda poi luciate. Quindi il pensiero fondamentale di quell'esperienza è che il mondo ha bisogno di pace. Però la pace si costruisce se noi sapremo far attecchire nel mondo la semente della non-violenza. Oggi, sapete che nella prossima giornata mondiale della pace il Papa lega per la prima volta queste due realità pace e non-violenza. E sapete, non è una cosa non è una cosa scontata perché se da oggi noi abbiamo parlato sempre di guerra a partire giusta. Abbiamo pensato che ci sono situazioni in cui possiamo dire che la guerra è giusta. Don Tonino ci diceva che la guerra non è mai giusta. e legava il disastro ecologico alla guerra dicendo che l'una e l'altra sono causa ed effetto l'una dell'altra. L'esperienza di Don Tonino da questo punto di vista è di profeta perché noi abbiamo iniziato dicendo che la tradizione è il presente del passato e portare quello che è stato nella vita quotidiana. però abbiamo parlato di avvento e Don Tonino quando ci dice queste cose non fa altro che introdurre nel presente il futuro. Il futuro. L'uomo di pace è la persona che sa legare quello che deve venire all'oggi che lo rende che lo rende attuare che capisce che sa guardare oltre non ha soffermi e' una persona di un'intelligenza storica e' una persona di un'intelligenza che andava oltre non la media di una media di poco. Vi dico questo perché ho avuto la possibilità anche di averlo come il mio professore e quando quando lui morì io ho scritto un articoletto in cui dicevo che non avevo ancora compreso se in lui fosse più grande il cuore o l'intelligenza il cuore o il pensiero alla fine ho concluso che in Don Tonino c'era un cuore pensante cioè la capacità di pensare pensare la relazione con l'altro dove per l'altro si pensava in maniera in maniera universale non in maniera ristretta l'altro non era soltanto Trifone che era il fratello l'altro sarebbe stato ognuno ciascuno di voi oggi pensare la dimensione con l'altro con un accento di passione un accento di passione se c'è un sentimento che il Don Tonino noi non abbiamo vissuto è stato quello della indifferenza Don Tonino ha avuto passione per l'altro passione cioè a sofferti patire Don Tonino ha sofferto per i dolori del mondo ha sofferto quando nel 1991 iniziò la guerra nel gonfo io mi trovavo alle 20 alle 20 quindi la sera alle 8 a confetta con lui e la televisione mi dava le prime immagini delle cosiddette bombe intelligenti sarebbero state quelle bombe che avrebbero che avrebbero messo in alto delle cosiddette operazioni chirurgiche no? ci dicevano così quelle bombe intelligenti che dovevano distruggere le armi gli armamenti che non avrebbero portato che non avrebbero portato morte Don Tonino io io li guardavamo la televisione io lo vedi piangere lo vedi piangere e io non capivo perché piangesse il mondo stavano distruggendo le armi mi guardò e disse attenzione Giancarlo stiamo iniziando di nuovo le guerra stavano distruggendo le armi mi guardò dall'alto della sua intelligenza e mi disse che la storia gli eventi vanno letti dentro capì che dovevo in quel momento rimettere ordine nelle mie cose e cercare di vedere il mondo non con gli occhi del più forte in fondo la lettura di Don Tonino della storia è stata la capacità di guardare di mettersi dall'altra parte di vedere il mondo mettendosi il corpo diceva lui l'occhio del povero e partiva da lì se noi analizziamo quello che ci sta succedendo a livello a livello globale ma che ha delle repercussioni nella nostra nella nostra casa la cosiddetta guerra mondiale a pezzi che lo stiamo vivendo vedete la guerra mondiale a pezzi non è quella soltanto purtroppo che si combatte in Siria dove le persone purtroppo muoiono ma la guerra mondiale a pezzi non è soltanto dal punto di vista geografico è una guerra mondiale che si viene in più dimensioni è guerra è guerra degli granchi è guerra della Siria e guerra è guerra degli granchi noi non sappiamo ed ci eserisce l'idea di quanti bambini sbaccano e poi noi perdiamo passano anche dai costri e poi si perdono e c'è il traffico des기 perdono e che non si capisce dove vanno a finire e non hanno un'identità è guerra anche quella finanziaria i nostri risparmi ogni giorno perdono valore e qualcuno invece acquista valore anche questa è guerra è guerra quella è guerra la distruzione della matura allora mettersi in corpo l'occhio del povero diceva Don Tonino che ci educava a vivere localmente quindi a pensare a tutti i poveri della città e lui dipendeva i poveri della città e li portava a casa sua perché diceva c'è crisi di amore però non finiva niente il discorso cioè il suo pensiero sulle periferie periferie sono le persone povere le ultime periferie della storia sono anche le situazioni che portano i conflitti non tra vivere diceva vivere localmente pensare globalmente per cui lui diceva che i dinuti dei popoli lontani sono tutti cittadini anzi di famiglia e quando vedeva quelle bombe lui disse attenzione perché questo è l'inizio di un nuovo evento noi oggi leggendo i giornali che cosa diciamo il mondo è cambiato a partire dall'anno da quando è cambiato il mondo dai non quando i giornali nostri quando i cittadini cambiano dall'11 e invece noi e invece no il mondo è iniziato a cambiare da quel famoso evento in Iraq e lì è stato l'inizio di un mondo di nuovo in conflitto l'11 settembre è una delle tappe è una delle tappe non perché negli Stati Uniti è successo qualcosa e noi pensiamo che quello sia l'inizio quello è un effetto quello è un effetto la violenza che abbiamo creato in alcuni stati i cosiddetti stati carattica oggi ci troviamo in casa ma quando dico in casa? dico in casa perché noi oggi sui giornali sappiamo che la gente dell'Isis arriva qui arriva qui sulle coste di Santa Maria di Erna con il vostro re qua a Lecce con i vostri credi se ne va a Bari e poi in Germania e poi ritorna qui cioè voglio dirvi voglio dirvi la misendoria ecco perché Don Tonino ha una profezia con un respiro mondiale la misericordia che noi abbiamo definito partendo da quello che voi avete letto l'arte dell'incontro l'incontro con tutti non scontro non conflitto non violenza ma incontro partendo dalle situazioni delle nostre città per arrivare alle situazioni del mondo per cui Don Tonino che a Molfetta prendeva le persone e mi portava in casa stai portate anche qui in questa casa in questa casa io una mattina arrivai e vive una ragazza di facili costumi che la notte era stata raccoglita da Don Tonino la concerta perché venne e bussò Don Tonino stava con la mamma di Don Tonino di Somma di Trifone in casa e l'accolse nella notte quando la prudenza avrebbe la prudenza e la ricerche adesso non vanno molto in accolto quando la prudenza avrebbe voluto che Don Tonino dicesse state a casa tu ma quale la porta è chiusa io sono un sacerdote quando io arrivai per andare per andare a scuola insieme io dissi scusa Don Tonino hai questa in casa se lo sanno gli altri lui mi guardò sto vedendo e mi disse Omnia Mundamundis io disse Omnia Mundamundis promessi sposi io ero dei sposi e dai subito a 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 Omnia Mundamundis per i per i puri tutto è puro per i puri tutto è puro per potersi distrarre in fronte a certe miserie umane aveva aveva alla potenza di certi ben pensanti aveva scelto questo è stato uno stile di vita aveva scelto la sapienza del Vangelo vedete chiudo perché se no vi andiamo a me con un giorno abbiamo sperimentato una cosa bella la basilica superiore diceva a questi ragazzi che mi accoglievano a un radazzo di questi ultimi gli disse un giorno mi spieghi la differenza tra basilica superiore e basilica superiore gli disse tu sei basilica superiore quella fatta di carne non di vera gli ultimi giorni allora a proposito di 15 minuti lasciamo stare i concetti perché voi dottorino non hai innamorato dei concetti è innamorato delle persone ma i concetti ci servono per favorire quell'arte dell'incontro perché se no non capiamo poi il mondo dove lo portiamo perché lo portiamo noi il mondo in maniera consapevole o in maniera inconsapevole lui ci diceva che dobbiamo essere consapevoli e lui diceva diceva che dobbiamo essere consapevoli la teoria su due cose la cultura e la fede sono le due cose che non ci toglierà mai nessuno la cultura che passa attraverso lo studio quindi la fatica della conoscenza non è una fatica semplice perché comporta il dovere il dovere pensare e oggi nessuno pensa la fatica è inaperta il pensiero è inaperta e il salento diceva che sarebbe stato terra libera soltanto se le persone erano persone di cultura andando un giorno una domenica andavamo a trovare gli ex ragazzi tossicodipendenti che erano a casa naturalmente quando arrivo portavo tante cose non io facevo questa con la presenza ma anche attraverso tantissimi gesti arrivava perché il pranzo passava invece che con il polio il polio con i fratelli lo passavano con loro andavamo a luogo quando arrivavano tutti i ragazzi e andavano e dottorio c'è il resto e dottorio mettete questo ci davamo il pranzo con loro passavano tutta la domenica con loro poi ce ne andavamo verso le quattro e mezzo le cinque beh vedi adesso vedi adesso vedi adesso c'è andato uscì fuori da cancello chiuse si il cancello si chiuse fermò la fermò la la cinque gestito e scese di nuovo e mi sei nella cassetta delle mostre una busta io quando torno in macchina chiesi ma avevi dimenticato qualcosa ho lasciato un segno di carità aveva lasciato una busta con 100 di carità io non capito dissi ma perché non le date quando lui disse perché per questi ragazzi sapere che c'è la solidarietà del vescovo allevia in qualche modo le sofferenze ma le allevia in parte perché non fare che il vescovo sia calcatevole ricevere un gesto di solidarietà da uno sconosciuto che quella busta era data da uno sconosciuto arrivato come gesto di uno sconosciuto quelle speranze le arrivi in maniera importante c'è una canzone da scorsi che scrive questo concetto qualcuno da scorsi o conosce meglio di me questi gesti mi fanno capire che noi abbiamo avuto un santo da vivo e la grazia di Dio non passa attraverso il pensiero assalto passa attraverso molti passa attraverso nomi e cognomi qui è passata qui nel Salento ma non solo nel Salento è passata attraverso l'ottomiglio e l'ottomiglio questa è la mia e contribuiamo con un piccolo pensiero è una segna che noi i macchinisti i capitreni e tutte le famiglie che hanno partecipato attraverso la vendita di acquini e i punti lo devoliamo alla fondazione sperando che sia anche per le cause di verificazioni infatti gliel'ho detto perché l'utilizzo di questo fondo sarà in questo momento quindi saremo lieti insomma a contribuire eventualmente un domani possa essere beato e chissà potessimo avere anche santo riconosciuto perché lo è già quindi questa è insomma la stessa la stessa la stessa la stessa la stessa sensibilità noi accogliere tanta gente che arriva a parlare di Don Tonino ci richiama due cose la prima è che non ne saremmo debbi lo dico in maniera parlare di Don Tonino per noi è sempre un impegno però bisogna partire appunto da quello che diceva dei fuori noi non saremmo debbi di parlare di Don Tonino la seconda ci riempie di gioia poterlo fare perché ci rende ci dà la forza ogni giorno di essere migliori per cui il ringraziamento è nostro nei vostri confronti non solo per il gesto prima ancora del gesto che non utilizzeremo nella direzione che voi già vi chiesto per l'amicizia e la conoscenza che con le persone si tratta grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi chi sono da dove vengono e perché sono venuti Gatelli si è sposato al compo e vi facciamo un applauso vedete che cosa bella il matrimonio è una vocazione Don Antonio ci dirà adesso che oggi noi preghiamo per le vocazioni sacerdotali c'è un giovane Maria Luca Luca che sta in teologia e poi abbiamo due Gabriele vediamo che il mio cuore si sposerà ce ne vedremo il sacramento per conoscenza quindi è chiamata e siete dono di Dio e non è andato bene 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 ok ma ti accade allora grazie di questo di Don Gino non era riparato niente assolutamente comunque lo ritorno lo ringrazio a prescindere niente io sono macchinista della confidenza e siamo venuti qui per accettare per fare un ideario per far conoscere altri macchinisti presenti a Messe ed altri capigreni assieme a tutte quante le loro famiglie per conoscere tutti di Don Tonino siamo andati a casa abbiamo visto la fondazione stiamo assistendo alla Messe e scopriendo una targa che abbiamo posto al cimitero donata appunto da tutti quanti i macchinisti e i capigreni delle torrivede del sud-est abbiamo devoluto un assegno che era andato appunto in beneficenza per la causa di pianificazione che insomma si sta effettando grazie vi graziamo Gabriele e anzi vi aggiungo di più che in questi giorni abbiamo saputo che il consigliore Tornancchia che il nuovo vescovo di Volventa ha preso in pieno in mano la causa di pianificazione era morto prima il vescovo di Volventa di Ungegno Martella poi era morto con il primo amato il piccolo generale anche lui era un vice costruatore ecco finalmente si è rimessa in vuoto la macchina quindi senza dire qualcosa di gradito e con questi sentimenti anche di gioia di gratitudine affidandoci all'intercessione oggi della Vergine Santissima immacolata proprio nel giorno della solennità della sua immacolata concessione che vuol dire il concedimento della Vergine Maria nel greco di sua madre ecco non il concedimento di Gesù ma il concedimento di Maria senza peccato nel greco della madre sua ecco e oggi vogliamo affidare al Signore in questo giorno santo anche tutti coloro che hanno ricevuto una particolare chiamata da parte del Signore quella chiamata al sacerdozio perché con Maria possano sempre rispondere con generosità un po' più e un po' più al Signore Gesù perché la cuora di Dio si faccia a carne ancora oggi nella Chiesa e con questi sentimenti vogliamo anche cointrodurci alla celebrazione chiedendo perdono al Padre di tutti i nostri peccati dopo che l'uomo ebbe mangiato dal frutto del latte il Signore Dio lo chiamò e gli disse dove sei? rispose ho udito la tua voce nel giardino ho avuto paura perché sono lungo e mi sono nascosto riprese chi ti ha fatto sapere che sei un'uomo hai forse mangiato dall'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare rispose l'uomo la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato il Signore Dio disse alla donna che hai fatto rispose la donna il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato allora il Signore Dio disse al serpente poiché hai fatto questo maledetto tu fra tutto il bestiale e fra tutti gli animali serbatici sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita io porrò in amicizia fra te la donna fra la tua stilpe e la sua stilpe questa ti schiaccerà la peste e tu le insiderai il calcane l'uomo chiamò sua moglie Eva perché era la madre di tutti i viventi parola di Dio prendiamo grazie a Dio cantate al Signore un canto nuovo perché ha confluto meraviglia cantate al Signore un canto nuovo perché ha confluto meraviglia cantate al Signore un canto nuovo perché ha confluto meraviglia vi ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo cantate al Signore un canto nuovo perché ha confluto meraviglia il Signore il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia egli si è ricordato del suo amore della sua fedeltà alla casa di Israele cantate al Signore un canto nuovo perché ha confluto meraviglia tutti i confini della terra e tutta la vittoria del nostro Dio acclava il Signore tutta la terra gridate esultate cantate cantate al Signore un canto nuovo perché ha confluto meraviglia quello che Paolo dice dice di ciascuno vale in modo evidente per la Vergine Maria piena di grazia la benedetta su tutte le donne da lei è benedetto Gesù il Salvatore dono del Padre dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Fesini benedetto Dio madre del Signore del nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale dei geni in Cristo e lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e innamorati di forza di lui nella carità predestinandoci a essere per lui figli elettivi mediante Gesù Cristo secondo il disegno d'amore della sua volontà all'ode dello splendore della sua grazia di cui ci ha gratificati nel primo amato e lui siamo stati fatti anche predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà a essere gode della sua gloria noi che già prima abbiamo sperato del Cristo parola di Dio rendiamo grazie a Dio parola che Salute, Signore! All'Inghilterra, all'Inghilterra, Poi e piaciare, Aprete il nostro cuore a Vigilante. E gioco insieme in canto all'Untegno. Dalla regra e piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta, benedetta, benedetta tra le donne. Grazie a tutti. Maria è invitata alla gioia dell'angelo Gabriele, che la chiama con un nome nuovo, piena di grazia, perché è la figlia di Sio, visitata dal suo Signore, e il compimento delle promesse di Dio. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, dal Vangelo, secondo Luca, gloria a te, oh Signore. In quel tempo, D'Angelo Gabriele fu mandato da Dio, in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo nella casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse, rallenti, piena di grazia, il Signore è contento. A queste parole, ella fu molto turbata, e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temeri, Maria, perché hai ritrovato grazia presso Dio. Ed ecco, concipirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, e verrà chiamato figlio del Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco un uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo non scenderà su di me, e la potenza del Altissimo, di copriranno la sua vita. Perciò colui che nascerà, sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, a insapenza tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a dirgli. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola. E l'angelo si allontano da lei. Parola del Signore. Lode a me, oh Cristo. Venici e proteggi i tuoi figli, Signore. Venici e proteggi i tuoi figli, Signore. Perché la Chiesa di Cristo, a evitazione di Maria Vergine e Madre, come sposa santa immacolata, va ad incontrare il Signore che viene. Preghiamo. Venici e proteggi i tuoi figli, Signore. Perché la potenza del Signore tolga dalla nostra vita il peso e la tristezza del peccato, che ci faccia gustando la vera che portate i figli di Dio. Preghiamo. Venici e proteggi i tuoi figli, Signore. Perché il popolo cristiano riconosce in Maria Mamata, un segno di consolazione e di sicura speranza, in mezzo alle prove della vita. Preghiamo. Venici e proteggi i tuoi figli, Signore. Perché l'Eucharistia che ce ne abbiamo, sia di tutti noi, di evito, di purezza e di santità, che ci rinnovano in corso e nella nostra vita, preghiamo. Venici e proteggi i tuoi figli, Signore. Quindi di Alessandro, già lo sapete, ma lo diciamo anche dagli amici che sono venuti da fuori. Oggi ricorre il 59esimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Tonino, che è venuta qui alla Alessana, in questa nostra chiesa. E lui, per 28 anni, è stato educatore e insegnante in seminario, dalla scuola media fino al quinto ginnasio. Insegnavo italiano, latino, greco e matematica. Che giuro. Io l'ho avuto tre anni, quattro e quinto ginnasio. Quindi avevo un'intelligenza straordinaria. Avevo una grande capacità di comunicazione. Però questo idoneo li ha trattenuti per sé. Li ha messi al servizio, prima che era la nostra chiesa locale, di oggetto, ma anche degli oggi si vicine. E poi come adesso, oltre che per polvetta, ovunque ho avuto rinanzo intervizi per tutta l'Italia. Però oggi ha superato i confini dell'Italia. Sapete, il suo libro, l'ultimo, a riattore dei nostri giorni, è stato tradotto in francese, in spagnolo, in inglese. Persino in Africa, i missionari, lo hanno trovato e non lo vedete. Come abbiamo pregato. Lui è stato bravissimo, Stantina. Davvero, perché il diventico padre si rapporta anche molto bene. Ecco, come abbiamo pregato per tutti i giovani che il Signore chiama alla vita sacerdotale. Oggi non è facile. Perché i genitori sono egoisti. Oltre i genitori hanno un figlio soltanto. Io credo che è più vicino un figlio prete ai genitori di un figlio sposato. Non vi offendete. Però è così. Quindi i genitori di oggi dovrebbero essere benotiti. Uno ne teme. Dice, che facciamo? Se il Signore lo chiama, lasciatelo andare. E diventa una benedizione, prima di tutto, per la famiglia e poi per la comunità. Allora vogliamo pregare perché i genitori tengono il cuore aperto nel saper donare i figli che nel discernimento, diceva Luca, scoprono la volontà di Dio, nel rinunciare ad una piccola famiglia per una grande famiglia che la comunità preghiava. Ascolto, benedice, 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 signore. Benedice, 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 benedice. E Dottorino dice una cosa molto bella sulla vocazione, analizzando la buona chiama. Dice Dio chiama colui che è fai. Ecco, ognuno di noi ha una particolare vocazione del Signore. Preghiamo perché con Maria possiamo sempre lasciare che in verbo la parola di Dio si faccia la carta in noi. Perché tutti non possiamo sempre rispondere come Dio. E Dio che sono il servo e la serva del Signore si compie la tua parola. Preghiamo, benedice, 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 signore. E preghiamo per le anima dei nostri vecchi. Pompeo, Italo, Teresa, Trifona e Luigi, Carmeva e Ucce, Cesarina, Pietro e i vecchi della famiglia amata. Perché possano contemplare con Maria il volto di Dio. Preghiamo. Benedice e proteggi il tuo figlio, Signore. Grazie. Grazie a tutti gli amici della sudeste, le loro famiglie. ...e anche il padre... ...e anche gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, gli amici, gli amici. ...e anche gli amici, gli amici, le loro famiglie. Quando volete, non siete di casa, anche quando venite individualmente. Tanti cari auguri, a nome di Tolantone, a nome mio. Grazie. La preghiera che scegliamo di leggere forse è quella che più rappresenta e ricorda Don Tonino e il suo smisurato amore, non solo per il Padre, ma anche per gli ultimi, gli abbandonati, i dimenticati e per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, sostegno, comprensione ed amore fraterno. Lui dice, L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me, per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi come te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strappare la vita, non è rosicchiare la vita. Vivere e abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento. Vivere e assaporare l'avventura della libertà. Vivere e stendere l'ala, l'unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te. Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita, anzitutto per le vite uccise prima di nascere. Sono ali spezzate, sono voli che avevi progettato di fare e ti sono stati impediti. Viaggi annullati per sempre, sogni troncati all'alba. Ma ti chiedo perdono, Signore, anche per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Per i voli che non ho saputo incoraggiare. Per l'indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel cortile, con l'ala penzolante il fratello infelice che avevi destinato a navigare nel cielo. E tu l'hai atteso in vano, per crociere che non si faranno mai più. Aiutami ora a planare, Signore, a dire terra a terra che l'aborto è un oltraggio grave alla tua fantasia e un crimine contro il tuo genio. È un riaffondare l'aurora nelle viscere dell'oceano. È l'antigenesi più delittuosa. È la decreazione più desolata. Ma aiutami a dire anche che mettere in vita non è tutto. Bisogna mettere in luce. È che Antipasqua non è soltanto l'aborto, ma è ogni accoglienza mancata. È ogni rifiuto del pane, della casa, del lavoro, dell'istruzione dei diritti primari. Antipasqua è la guerra. Ogni guerra. Antipasqua è lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico della vita, dove si tira a campare, dove si vegeta solo. Antipasqua è passare indifferenti vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine. E si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. Soprattutto per questo fratello sfortunato. Dammi, oh Signore, un'ala di riserva. Amen. Ovviamente, oggi non poteva mancare una delle preghiere di Don Tonino rivolte alla Madonna. In questo giorno, che fu così importante per lui, poiché l'8 dicembre del 1957, fu il giorno della sua ordinazione sacerdotale. Egli non bussa la porta per intimarci lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. Non entra in casa per metterci le manette, ma per restituirci il gusto della vera libertà. Lo sappiamo. E' la paura del nuovo a renderci spesso inospitali nei confronti del Signore che viene. I cambiamenti ci danno fastidio. E siccome lui scombina sempre i nostri pensieri, mette in discussione i nostri programmi, manda in crisi le nostre certezze. Ogni volta che sentiamo i suoi passi, evitiamo di incontrarlo, nascondendoci dietro la siepe, come Adamo tra gli alberi dell'Ele. Facci comprendere che Dio, se ci guasti i progetti, non ci rovina la festa. Se disturba i nostri sonni, non ci toglie la pace. Facci comprendere che una volta che l'avremo accolto nel cuore, anche il nostro corpo brillerà della sua luce. Santa Maria, Donna Accogliente, rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli. Sperimentiamo tempi difficili, in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente ci fa vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza. Non ci fidiamo più l'uno dell'altro, ridiamo agguati dappertutto. Il sospetto è rivenuto organico nei rapporti con il prossimo. Il terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento sugli istinti di solidarietà che pure portiamo dentro. E il cuore se ne va a pezzi dietro i cancelli dei nostri recinti. Risperditi, preghiamo, le nostre diffidenze. Facci uscire dalla trincea degli egoismi corporativi. Sfascia le citture delle leghe. Allenta le nostre ermetiche chiusure nei confronti di chi è diverso da noi. Abbatti le nostre frontiere. Le frontiere culturali, prima di quelle geografiche. Queste ultime cedono ormai sotto l'urto dei popoli. Ma le prime, le frontiere culturali, restano tenacemente impermeabili. Visto allora che siamo costretti ad accogliere gli stranieri nella nostra terra, aiutaci perché possiamo accoglierli anche nel cuore della nostra civiltà. Santa Maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia, quando avremo reso lo spirito anche noi. Dona alla nostra morte la pieta e fiduciosa di chi pogge il capo sulla spalla della madre e si addormenta sereno. Tienici per un poco sul tuo ghembo, così come ci hai tenuti nel cuore per tutta la vita. Compi su di noi i rituali delle ultime purificazioni. Portaci finalmente sulle tue braccia davanti all'Eterno, perché solo se saremo presentati da te, sacramento della tenerezza, potremo trovare pietà. Madre immacolata accogliente, prega per noi. Amen. Gabriele, a te tocca. Vai, 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 Gabriele. Caro Don Tonino, per noi lavoratori delle Ferrovie Sud-Est e per coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa, è un dono del Signore essere qui, alla tua presenza, ed aver partecipato alla celebrazione coristica del 59esimo anniversario della tua ordinazione sacerdotale. Vogliamo ringraziare il Sindaco della città di Alessano, il Parroco della Chiesa Madre ed il Presidente della Fondazione Don Tonino Bello. Ringraziamo inoltre Don Dario, figlio del nostro caro collega Luigi, che ha risposto con entusiasmo al nostro invito, nonostante i sui impegni in parrocchia. Un grazie particolare rivolto a tuo fratello Trifone, che non appena saputo di questa nostra iniziativa, ci ha subito incoraggiato a realizzarla, se oggi siamo qui e in buona parte anche a merito suo. Caro Don Tonino, oggi si è avverato per noi ferrovieri un sogno che da tempo avevamo nei nostri cuori e che nella sua realizzazione ha trovato tanta partecipazione e solidarietà, e non solo in ambito ferroviario, a testimonianza del grande affetto che abbiamo per te. Molti di noi non hanno avuto la grazia di conoscerti di persona, ma la tua testimonianza di fede continua ad essere viva e a trasparire non solo grazie ai tuoi innumerevoli iscritti, ma soprattutto grazie alla tua vita, esempio concreto di diaconia che ha colpito il nostro cuore e ci indica la strada del servizio nei confronti dei fratelli e soprattutto di coloro che si trovano nella sofferenza. Don Tonino, la tua presenza fra di noi è nell'aria che respiriamo. Il tuo corpo riposa in questo cimitero a non più di 50 metri dalla linea ferroviaria e questo ci porta a ogni nostro passaggio a rivolgere a te il nostro grazie attraverso il fischio del treno. Don Tonino, benedici tutti noi che abbiamo partecipato a questa bella giornata, con tua compagnia e benedici anche coloro che hanno contribuito alla realizzazione della stessa, ma che per vari motivi loro malgrado non sono qui presenti. Ti chiediamo di proteggere noi ferrovieri, il nostro lavoro e coloro che viaggiano sui nostri treni. Intercedi presto Gesù per tutti noi, le nostre famiglie, per coloro che soffrono e per i nostri fratelli ferrovieri visivamente scomparsi dalla terra. Un ultimo grazie lo rivolgiamo a te Gesù per averci donato il fratello Don Tonino. Doni la certezza che un giorno sarà asciugata ogni lacrima e ricompensata ogni fatica sostenuta per tuo amore. Benedici i tuoi figli che nella piena adesione alla tua volontà ti invocano mediante l'intercessione del servo di Dio Tonino Bello e della Vergine Maria Immacolata, perché preservati da ogni male e confermati dalla grazia del tuo spirito, glorifichino in parole e opere il tuo santo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore misericordioso, per intercessione del servo di Dio Tonino Bello e della Vergine Immacolata, vi conceda la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.